con una vista in prima persona ci troviamo nei pressi del parcheggio dell'aeroclub a delle orsi a calcinate del pesce nel Varesotto qui riprodotto molto bene nel simulatore questo aeroclub si dedica principalmente al volo inalliante ed è situato in una splendida area geografica molto suggestiva del lago di Varese per trovarlo nel simulatore potete digitare il codice lima india lima charlie oggi ho deciso di portarvi un approfondimento sulla moda di fly inside del bel 47 amo moltissimo questo modello perché ha un'ampia visuale garantita dalla cabina e mi permette di fare voli vfr i voli a vista che sono come già sapete saprete dei voli lenti per osservare il territorio sul mio canale infatti non troverete mai voli con aerei di linea con il modo imparare divertendosi avevo già realizzato sul canale dei video appositi di salina o delle altre pop avese fatti lo scorso anno con alcune notizie storiche se sul territorio sorvolato è una bella scusa per me sia per imparare ma poi anche per visitarli poi magari nella realtà io l'ho fatto con salina che personalmente visitato godendomla senza turisti poco prima di pasqua del 2023 trovate qualcosina sul canale in futuro probabilmente caricherò altro materiale come foto reportage eccetera in realtà avrei voluto fare questo video già lo scorso anno ma ho preferito cercare di raccogliere più informazioni possibili sia sull'elicottero sia sui controlli che lo governano microsoft fly simulator era partita senza implementare gli elicotteri che poi è introdotto successivamente nella versione del quarantesimo anniversario la fly inside corse i ripari velocemente creando questo splendido addon a pagamento dell'elicottero che è il bel 47 g2 a1 io ho avuto l'onore di avere la licenza gratuitamente da loro perché li ho contattati e ho tradotto la versione 1.80 nel manuale in italiano e gli sviluppatori mi hanno fatto cosa gradita regalandomi la licenza della doll in realtà mi avevano anche promesso una pubblicazione sul sito del manuale in italiano che però non è avvenuta ma mi rendo conto che forse per il nostro mercato è una forzatura e che gli appassionati spesso sono addetti ai lavori che masticano l'inglese molto bene se qualcuno di voi volesse il manuale in pdf in italiano me lo scriva nei commenti qui sotto il video e avrò il piacere di mandaglielo gratuitamente nel frattempo è uscito un terzo aggiornamento recentemente e ha portato la versione della moda alla 2.69 che ha migliorato alcune cose premetto una cosa non sono un pilota di elicotteri sono solo un obbista amatore e appassionato di simulazione introdurrò dei concetti e cercherò di spiegarli con l'obiettivo di spiegare meglio la don mi scusi in anticipo con gli addetti i lavori se dirò delle imprecisioni invito tutti eventualmente a commentare qui sotto ed eventualmente a correggermi ritengo che sia costruttivo e si impara sempre qualcosa di nuovo interessante gli elicotteri di questa serie sono stati certificati per primi per uso civile nell'8 marzo del 1946 ne sono stati prodotti ovviamente diverse varianti fino a circa 5600 esemplari fino al 1974 compresi 1200 su licenza della gusta nel varesotto con una denominazione dell'elicottero differente chiamata ab 47 era un elicottero operativo negli stati uniti con le forze armate trovate fra le livree incluse anche questa che vedete qui e fu utilizzato anche degli americani nella guerra di corea con la denominazione hotel 13 siu è stato utilizzato come elicottero ad addestramento basico anche in italia fu utilizzato anche in ambito civile anche in agricoltura o per il trasporto di viveri o di persone gli anni cinquanta la gusta ottenne la licenza della bella dalla bella e iniziò la produzione anche in italia riuscendo a produrre inizialmente circa dieci esemplari al mese ci sarebbe molto da dire sulle vicende e la storia della produzione di questo elicottero per questo vi rimando a un bel libro che racconta la storia dell'azienda di cui potete trovare i riferimenti qui in basso io l'ho trovato alla biblioteca sormani di milano e l'ho consultato tra l'altro è ricco di fotografie se invece volete vederne uno dal vivo potete trovare diversi esemplari e altri elicotteri nel museo a gusta a samarate in provincia di varese troverete maggiori dettagli in descrizione in italia ho saputo che il bel 47 era soprannominato gigetto dalle forze dell'ordine o dalla finanza ma anche dai vigili del fuoco dall'aviazione leggera nell'esercito ottenne una celebrità internazionale perché fu uno dei mezzi utilizzati nel film 007 si vive solo due volte o in altre serie tv come mesh o in alcuni videogiochi come gta concentriamoci sulla versione proposta nel simulatore che forse la più celebre dell'otto visto che ne sono state riprodotte diverse varianti nel corso degli anni come vedete il modello è un tralicciato per ridurre i pesi il bel 47 ha un peso a vuoto di 1893 libre ossia circa 860 kg circa lo stesso di un maggiolino volkswagen la lunghezza di circa quasi tre metri per la precisione 2,8 è un elicottero a pistoni a due o tre posti in particolare questa versione è stata certificata nel 55 fino al 62 dopo la sua introduzione negli anni 50 divende popolare celebre grazie a un'impresa per quegli anni che gli valse la nomea di elicottero di alta quota atterrando sul monte bianco con una versione appositamente alleggerita a oltre 4800 metri è molto probabile oltre alla riduzione di peso che quella versione avesse delle modifiche probabilmente per facilitare l'ascesa farò un video apposito utilizzando l'elicottero in queste zone prossimamente perché ho intenzione di fare un approfondimento alpinistico i serbatoi del bel 47 variavano a seconda del modello ma i due qui installati contengono ciascuno 30,5 galloni circa 113 litri e mezzo per un'autonomia massima di 214 milia nautiche che equivalgono a 396 chilometri il motore a benzina è un lycoming vo 435 a 1 da 4 da 6 cilindri contrapposti raffreddato ad aria da un ventilatore frontale e montato verticalmente poteva arrivare fino a circa 280 cavalli il motore fu utilizzato anche in alcune versioni del beachcraft v tail bonanza i bel 47 precedenti utilizzavano un motore a pistoni franklin meno potente più leggero questo motore se non erro fu utilizzato non solo in aviazione ma anche per alcuni car armati nella seconda guerra mondiale il lycoming non è un motore molto potente come vi dicevo generalmente perché è in grado di sviluppare fino alla maggior parte delle volte 194 cavalli con alcune versioni come vi ho detto fino a 280 alcune versioni erano limitate a 149 cavalli per rispettare probabilmente delle normative apposite dell'epoca soprattutto relative alla pressione di alimentazione ciò aveva comunque delle ripercussioni positive sulla durata del motore e una riduzione dei costi di manutenzione consumava circa 55-60 litri all'ora un'altra cosa che lo caratterizza sono i due serbatoi dorsali che abbiamo visto prima posizionati sopra il vano motore può sviluppare una velocità di 136 km orari nel simulatore la velocità di crociera è intorno alle 50-60 miglia a livello del mare la ratio di salita massimo è di circa 245 metri al minuto ad una velocità di circa 72 km all'ora a pieno carico può raggiungere circa i 4.000 metri con un'autonomia massima di circa 383 km successivamente a questa e con una revisione probabilmente delle normative vennero utilizzate le versioni turbo compresse più potenti identificate con la dicitura V lo stesso motore aziona sia il rotore principale che quello di coda attraverso una scatola di trasmissione a forma di cilindro posta sopra il motore proprio per questo motivo devo introdurre e approfondire meglio alcuni concetti che caratterizzano proprio in generale un elicottero da un aereo quali sono le forze in gioco in un velivolo come questo rispetto a un aereo? spesso sentiamo parlare di portanza che è quella forza aerodinamica perpendicolare alla velocità nell'aria in un elicottero ci sono altre dinamiche di volo per le pale, i rotori e i sistemi che ne governano le sinergie e la stabilità stessa si potrebbe variare la velocità di rotazione delle pale ma anche l'angolo di incidenza per avere una certa spinta o una portanza appunto e per vincere la resistenza dell'aria l'aria è la forza aerodinamica parallela alla velocità visto che si parla sempre di corpi in movimento immersi in un gas in termini di efficienza aerodinamica sembra che con gli elicotteri moderni si preferisca lasciare la velocità di rotazione del rotore fissa attraverso controlli automatici e variare maggiormente invece l'angolo di incidenza di attacco delle pale il Bell è un elicottero più vecchio degli attuali elicotteri e in questo senso è un po' più spartano ma avrete delle belle soddisfazioni con questa mod e vi divertirete nel pilotarlo quindi rispetto alla sola cloche che nell'elicottero si chiama ciclico o passo ciclico bisogna introdurre altri controlli ho deciso di dividere il video in due parti quindi ci concentreremo sui controlli nella prossima puntata vi invito a mettere un like e a condividere il video per far crescere questo piccolo canale, grazie